Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. La collaborazione tra l'icona del web Chiara Ferragni e il prestigioso marchio di moda Todesse, guidato da Diego Della Valle, è giunta a un punto di riflessione. Ferragni, nonostante il suo ruolo nel consiglio di amministrazione del brand, ha destato attenzioni per le sue frequenti assenze alle riunioni, contribuendo a una situazione già complicata dal controverso episodio legato alla vendita di Pandori per beneficenza. Diego Della Valle, il 23 febbraio, ha difeso l'impegno benefico di Ferragni con il brand, sottolineando l'importanza di non affrettarsi a giudicare e di attendere che la situazione si chiarisca adeguatamente. Tuttavia, le speculazioni sul futuro di Ferragni con Todesse si sono intensificate. La Ferragni, che aveva fatto il suo ingresso nel board il 21 aprile 2021, aveva influenzato positivamente le azioni della società, portando a un significativo aumento del valore di mercato. Nonostante ciò, il suo elevato tasso di assenteismo e la questione irrisolta dello scandalo balocco hanno sollevato dubbi sulla sua permanenza nel consiglio. Recenti informazioni suggeriscono che, nella prossima riunione per il rinnovo del consiglio, il nome di Ferragni non compare tra i candidati proposti da D.V. Finanziaria, azienda a capo di Diego Della Valle e maggiore azionista di Todesse. Questa mossa segna un evidente cambio di direzione per il marchio. Chi prosegue senza la presenza influente dell'imprenditrice digitale nel suo organo decisionale? E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.